In questo numero di Monitor Consiglio, pubblicazione degli atti, una legge sulla trasparenza, approvata una normativa che recepisce le linee guida governative sull'accessibilità. Trasporto ferroviario, una gara per la gestione. In aula il non rinnovo del contratto con Trenitalia, annunciato dal governatore Enrico Rossi. Una legge che dispone la pubblicazione di tutti gli atti amministrativi di Giunta e Consiglio, in specifiche banche dati sui rispettivi siti web. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la normativa che recepisce i principi della disciplina statale sulla trasparenza, con decreto legislativo 33 del 2013, ovvero la totale accessibilità alle informazioni su organizzazione e attività delle amministrazioni pubbliche. Un adeguamento alla legge regionale del 2007. La Regione Toscana già da tempo si è avviata su questa strada, che fondamentalmente dà la possibilità al cittadino di avere una serie di informazioni sui pubblici amministratori e gli altri dirigenti della Regione Toscana. Ora oggi si è votato un adeguamento che va però nel solco di dare la possibilità di controllare anche da un punto di vista patrimoniale e delle attività lavorative il comportamento di un pubblico amministratore. Quindi una serie di documenti vengono pubblicati sul sito della Regione e qualunque cittadino può andare a controllare. Una normativa quella sulla trasparenza che trova la Toscana in una posizione di avanguardia rispetto alle altre regioni. Quello che hanno i consiglieri regionali, quello che fanno, è online da diversi mesi perché la Regione sulla trasparenza della Toscana impone a dirigenti e amministratori di rendere pubblici i propri patrimoni, le partecipazioni nelle banche, societarie, anche per vedere se ci sono dei conflitti di interesse. È una cosa importante questa. Oggi abbiamo esteso questa misura, il recepimento della normativa nazionale anche a tutti gli atti di giunta di consiglio che in realtà erano accessibili ma con un po' di complicazione oggi sono tutti accessibili, cioè quando la legge ora verrà pubblicata diventerà efficace per qualche giorno, saranno tutti accessibili nei siti online della Regione. La normativa viene qualificata come un livello essenziale delle prestazioni che gli enti pubblici devono erogare per la trasparenza, la prevenzione e il contrasto alla corruzione e alla cattiva amministrazione. Oggi diciamo mettiamo tutto online, per esempio i famosi vitalizi dei miei colleghi consiglieri regionali che sono sempre stati considerati un po' un tabù, oggi apriamo il computer e li possiamo leggere uno per uno e prendere contezza. Il modo migliore è mettere le cose in piazza, poterle far vedere. Uno dei rischi è qualche volta che attraverso dei percorsi complicati poi alla fine formalmente ci sia riconosciuto questo diritto, ma di fatto per la difficoltà proprio tecnica di accesso alle varie finestre, ai vari siti, ai vari posti. Ecco abbiamo fatto anche uno sforzo, questo lo devo dire, spero riuscendoci, di rendere anche facilmente, come dire, da parte dei cittadini azionabili gli strumenti per la trasparenza. Quindi trasparenza su tutti gli atti che già le leggi regionali lo permettevano e che oggi è possibile anche via web. Ci siamo limitati a recepire la legge nazionale che adesso lo impone a tutte le regioni per qualche aspetto formale che non cambia la sostanza delle cose. Ancora una volta devo dire che la qualità della legislazione toscana e la qualità dei partiti e dei gruppi consigliari che concorrono a fare questa legislazione si conferma all'avanguardia e sicuramente molto più attenta a quelle che sono le esigenze attuali della politica di quanto non lo siano le altre regioni. Si tratta di un processo di trasparenza che vede i consiglieri regionali e tutta l'amministrazione pubblica mettersi giustamente alla berlina per far vedere tutti quelli che sono profili personali, patrimoniali, economici, finanziari, incarichi politici, partecipazioni detenute eccetera. La trasparenza massima anche al di là di quello che servirebbe per rispondere in questi giorni in cui c'è una perdita di credibilità delle istituzioni per colpa delle persone che vanno a occupare ruoli importanti. E proprio alla trasparenza aveva fatto riferimento in apertura di seduta il Presidente del Consiglio Alberto Monaci comunicando che sono pubblicati online anche i vitalizi dei consiglieri regionali. Una gara per la gestione del trasporto ferroviario regionale. Lo aveva annunciato il Presidente della Regione Enrico Rossi escludendo di procedere al rinnovo automatico della Convenzione con Trenitalia. Una presa di posizione in risposta ai numerosi riservizi segnalati dagli utenti che trova ampio consenso in Consiglio regionale dove il tema è stato affrontato tramite due interrogazioni presentate da Forza Italia e Più Toscana Nuovo Centrodestra. Per avere chiarimenti sul merito del bando se c'è nel bando che verrà fatto anche il fatto del raddoppio della linea Firenze-Lucca-Viareggio che il Presidente Rossi ha detto era una cosa improcastinabile quindi con queste interrogazioni voglio sapere se è una pregiudiziale affinché venga affidata a un soggetto o a un altro questo bando, questa gara, questo appalto. A rispondere alle interrogazioni l'assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli che ha assicurato tra l'altro che la salvaguardia dell'occupazione sarà uno dei criteri di assegnazione del servizio ferroviario. Molto è nato da una relazione di studio fatta dalla Commissione che io ho curato e che ha prodotto un documentino sulla base della quale è emerso che di fatto le ferrovie dello Stato, pur essendo un'eccellenza in alta velocità sono quanto di peggio può essere nel trasporto locale. Partendo da questo dato e dal fatto che purtroppo ancora oggi l'azienda ferrovia, pur chiamandosi così, di fatto è il peggio di quello che possono essere le aziende pubbliche cioè è un'azienda che pensa di lavorare ancora nel regime di monopolio tutte le pressioni e anche le sanzioni, le munte pagate non gli fanno effetto, preferiscono pagare le munte piuttosto che modificarsi in una base. Allora da qui la sfida di Rossi di dire bene, allora noi proviamo a togliervi questo lavoro siccome abbiamo un appalto che sta scadendo. Ma da una parte finalmente, nel senso che la sofferenza dei pendolari e il decadimento del servizio ferroviario regionale è sotto gli occhi di tutti, è insopportabile è insopportabile per i pendolari, i lavoratori mettere a rischio il loro stesso posto di lavoro per un servizio inaffidabile, lento, vecchio con ritardi e in condizioni disumane e dall'altra però bisognerebbe una lettura le risorse vanno sull'alta velocità e non vanno sul trasporto regionale Un tetrino che va avanti da tanti anni Moretti alla fine è stato, ricordo che insomma è uno dei protetti del Presidente della Repubblica Napolitano iscritto allo stesso partito del Presidente Rossi quindi oggettivamente vanno avanti con questi trattini da una vita e a volte fanno gli amici, a volte litiga Noi vedremo nei fatti, senza dubbio ci sono dei seri problemi per i pendolari senza dubbio in Toscana i treni sono una piaga brutta dell'amministrazione regionale Rossi si avvicina alla fine del mandato cerca qualcuno su cui scaricare le colpe adesso si inventa Moretti per qualche mese È necessario, a mio avviso, appunto come diceva anche il Presidente Rossi di arrivare ad una gara e mettere in concorrenza più soggetti perché altrimenti non avremo quel salto di qualità che appunto la concorrenza ti può dare e così stando, insomma, io non vengo da un territorio che ora attualmente vede la città di Grosseto scollegata dalla città di Siena perché sono oramai praticamente tre mesi che la ferrovia è franata sotto l'azione di un alluvione e che ancora nessuno ha ripristinato e messo in condizioni appunto di percorrere quella linea È importante cominciare a chiedersi come si inverte questo stato di cose sicuramente in finanziaria la Regione ha fatto un atto importante il Presidente Rossi a anticipare subito tutti i soldi per il trasporto pubblico locale sia i treni sia il trasporto quello su gomma quindi senza tagliarli, anzi aumentandoli un po' in un periodo in cui sicuramente nel complesso le risorse sono minori quindi certamente bene le denunce bene le prese di posizione di Rossi bene gli interventi finanziari bene che in generale si parli di come migliorare questo servizio quindi perché no anche aprendo alla concorrenza fra più gestori possibili